Il Papa è la conclusione che cominciò con Giovanni Paolo, quello grasso, quello salutato ai nostri bambini. E piano piano tutti gli altri pontifici hanno dato qualcosa di veramente buono, sempre barcamenandosi, perché come giustamente dice il Papa, a certe sollecitazioni negative è meglio non rispondere. Come pesce Gesù per altro che non chiede, non risposta. Credo che parlerà sicuramente del problema dell'inclusione, di questi sbarchi, il problema di cui sentiamo parlare giornalmente. Chiederei di pregare proprio per ciascuno di noi, per questa città che è bellissima, che io sono di Palermo, chiaramente amo, ma non è valutata abbastanza. Un po' di pace. Di trovare una soluzione giusta per risolvere il problema dell'immigrazione. Deve fare qualcosa per i rifugiati, per la gente povere. Se potesse chiedere qualcosa al Papa, che cosa gli chiederebbe? Di interessarsi di più per la Chiesa e non per lo Stato italiano. Io personalmente non avrei da chiedergli niente, perché tutto quello che lui dice, a volte, mi risveglia qualche cosa che io avrei chiesto. Ha capito? Questo è il punto. Veramente non avrei niente da chiedergli. Grazie. 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 Grazie.